Buonasera a tutti, oggi parliamo del professore Paolo Giaccone che è stato ucciso in un agguato nel via del Policlinico l'11 agosto 1982. Ne parleremo con Marika Tutino che è neurochirurgo e fa parte del Lions Club Palermo Host, poi ne parleremo con il professor Gianfranco Amenta che è professore di diritto privato in scienze politiche, è stato anche governatore al distretto siciliano nell'anno 2013-2014 e con il presidente del Lions Club Palermo Host, Marcello Vegna, avvocato Marcello Vegna. Grazie a tutti voi per questa partecipazione, vi devo ringraziare in modo particolare perché nelle mie trasmissioni non avevo mai parlato della figura del professore Paolo Giaccone che era un professore di medicina legale al Policlinico di Palermo e come ho detto poc'anzi è stato ucciso barbaramente in un agguato nel via del Policlinico di Palermo. Perché siamo qui? Perché il Lions Club ricordo ogni anno questa figura così eccelsa di questo professionista che è morto nello svolgimento del proprio lavoro, una cosa incredibile se ci si riflette un poco. Il Lions Club Palermo ha istituito da tempo una borsa di studio a favore di giovani laureati in giurisprudenza, in scienze politiche e in medicina. Prima che iniziasse la trasmissione parlavo con il professor Amenta e mi chiedevo perché la platea dei giovani concorrenti non viene estesa. Perché il premio è molto importante perché c'entra un argomento molto interessante che è quello della legalità e i giovani debbano essere protagonisti soprattutto nell'affermazione della legalità, soprattutto in questo periodo. Intanto però cominciamo a parlare. Allora, professore Amenta, comincio da lei per sentire qualche cosa del professore Paolo Giaccone. Il professore Paolo Giaccone è stato un socio del nostro club Palermo Ost e il premio è proprio il frutto del pensiero deferente nei confronti di questo eroe per caso, eroe che tutto poteva senza altro pensare che non essere un martire della nefandezza mafiosa. E allora il nostro club ha voluto da alcuni decenni onorare la memoria affinché questo sacrificio incredibile potesse essere di monito nei confronti delle nuove generazioni e potesse soprattutto sollecitare tutto quello che grava nel mondo medico e quindi ecco perché, come si diceva innanzi, una borsa di studio rivolta a un argomento che comunque afferisce alla attività effettuata dal professore Giaccone. E quindi etica delle professioni, responsabilità del medico e poi approfondimenti in medicina legale. C'è stato da un po' di tempo a questa parte una sollecitazione anche dai giovani di altre università, sempre siciliane, ma dell'Università di Catania, di Messina, di Enna e questo ci ha riempito di commozione perché significa estendere sempre più il ricordo di questo nostro socio che veramente è un fulgido esempio non solo di dirittura morale ma anche di rispetto di quelle che sono le nostre linee del codice etico che ci regge. Allora Presidente Marcello Vegna, voi chiaramente continuate questa tradizione, lei si trova a essere presidente del Lions Club Palermo Host e quindi con tutte le forze porta avanti questa iniziativa che va al di là diciamo del valore materiale della borsa di studio, ha l'importanza notevole ed è un messaggio appunto che si diffonde non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Sì, in effetti l'attività che noi svolgiamo attraverso questa istituzione del premio Giacchone è volta sì a premiare la migliore tesi, l'autore della migliore tesi di un laureato nell'università a 26 in Sicilia ma in effetti è tesi di giurisprudenza, in materia di giurisprudenza, responsabilità civile o responsabilità penale del medico, in tema pure di medicina legale, in tema di etica delle professioni, così come ha detto il professore Amenta. Ma a parte questo è volta ad onorare che cosa? Ad onorare la memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita diventando appunto come ha detto il professore Amenta eroe per caso senza avere la minima intenzione di essere un eroe. E però chi sacrifica la propria vita, chi dà tutto per la fedeltà alle regole, alle leggi e alle istituzioni ha diritto di essere commemorato. Ha diritto di essere commemorato al di là del suo operato. Perché? Perché è attraverso la celebrazione della memoria ed è attraverso anche il perpetuare della memoria stessa, nei giovani soprattutto, che si riescono a raggiungere obiettivi che se no diversamente non verrebbero raggiunti. Allora, Marika è un medico, è un neurochirurgo e quindi vive in maniera particolare diciamo il ricordo di questa figura perché è facile pensare quanto i professionisti, questo tipo di professionisti si rischiano nell'esercizio delle proprie funzioni, cioè nel fare il proprio dovere molte volte si rischia. Sono recenti le notizie che ci parlano di aggressioni nei confronti dei medici e da parte di parenti di ammalati. Quindi dico io ma in che mondo viviamo? Cioè prima c'era un rispetto enorme nei confronti di determinate professioni, per carità, nei confronti di tutti i professionisti, ma ahimè nei confronti dei medici soprattutto perché il medico era quella figura importante che ti poteva aiutare in momenti particolari della tua vita. Invece ora vediamo che tutto si riduce a nulla, non c'è rispetto più di nulla e si rischia la vita come nel caso del professore Giacomo Veroli che lì c'era la mafia che imperava e governava e voleva dettare le leggi anche nella compilazione di un referto che era una cosa tecnicamente non modificabile perché i risultati erano quelli, non è che si potevano modificare. Per il professor Giacomo era impensabile che si potesse modificare un referto, però purtroppo le pressioni ci sono state, lui non ha ascoltato e poi ha pagato. Assolutamente sì, la figura del professore Giacomo è sicuramente molto importante perché non solo rappresenta l'ideale da perseguire per ogni medico, per ogni professionista che significa l'etica innanzitutto. Gli chiesero di falsificare una relazione a riguardo il riconoscimento di un'impronta digitale che avrebbe dato sicuramente il nome dell'assassino in una strage di bagheria. Lui naturalmente si rifiutò perché era assolutamente impensabile falsificare perché era qualcosa che andava al di là dell'etica. La sua figura è importante anche perché fu dei fondatori del centro Avis e forse pochi lo sanno. Nel 1963 fondò il centro Avis a Palermo e lavorò per poterlo diffondere la cultura delle trasfusioni, addirittura coinvolgendo la sua stessa famiglia. Si ricorda un momento particolare di orgoglio in cui lui stesso diede una medaglia alla figlia Milli, proprio per una premiazione per la sensibilizzazione e la donazione del sangue. L'ideale, chi fa medicina per un ideale, per una missione, si sente investito, forse anche in maniera presuntuosa di una necessità di andare avanti, andare verso le esigenze del paziente, di salvare la vita, di arrivare alle cure. Ma tu ti sei trovata mai in situazioni particolari in cui hai avuto dei dubbi se di andare avanti oppure fermarti nel corso della tua attività di neurochirurgo? Ho avuto diverse esperienze in cui però mi sono sempre... Perché ci sono momenti in cui si deve decidere intervenire o non intervenire. Se si interviene si può provocare anche la morte. Dico, ci sono state situazioni particolari che ti hanno fatto tremare, chiaramente. Assolutamente sì. Allora, in pochi istanti a volte è necessario fare una corretta valutazione del paziente, perché a volte, ti stupirò forse dicendo questo, la morte non è il peggiore dei mali. Ci sono delle situazioni in cui magari in grossi incidenti stradali devastanti, in cui hai condizioni molto vicine alla morte cerebrale, in cui se intervieni fai sì che magari salvi la vita per un periodo X in condizioni che per noi potrebbero essere anche intollerabili, non accettabili, in uno stato vegetativo per lunghi tempi. Non è semplice, in ogni caso non è semplice. La si rientra in vari altri argomenti, però è giusta la valutazione. Esatto, perché chiaramente il caso del professor Giacone era un caso proprio di mafia, vero e proprio, c'era un intervento massiccio della mafia, anche perché poi il personaggio che ha pagato con l'ergastolo era ai vertici di Cosa Nostra, e i mandanti erano chiaramente i capi di Cosa Nostra, non parliamo di cose, di poco conto, parliamo di cose di una certa rilevanza. Professore, però dico, la società di oggi, i giovani di oggi, quale insegnamento appunto debbano trarre? L'abbiamo detto già sin dall'inizio, però io ne avevamo parlato poco prima pure della trasmissione. Secondo me i giovani sono l'unica certezza e speranza della nazione italiana, come di tutte le nazioni. Forse noi poniamo poca attenzione su questo argomento e su questo fatto, quindi a voi il grande merito di dare importanza ai giovani, anche se con un premio che può essere minimo, per carità. Però abbiamo detto che il valore va oltre la consistenza del premio. Sì, ma il nostro impianto da alcuni anni a questa parte del premio ha subito anche una integrazione o una modifica, perché oltre a dare il premio al laureato, che è sempre nell'età giovanile, abbiamo cercato di fare un momento di riflessione sulla legalità in generale. L'anno scorso, per esempio, per parlare solo del recente, si è fatto una intervista da parte di alunni di una scuola al questore di Palermo. E quindi i giovani che hanno partecipato, giovani ancora non diplomati, ancora non maturi, ma con una voglia veramente grandissima, per un verso di rubarle anche l'attività professionale, perché erano delle domande molto pertinenti, molto calzanti. E per altro verso esprimevano grande passione. Quest'anno cercheremo di realizzare un incontro con il primo presidente della Corte d'Appello e quindi sentire da lui le risposte che verranno offerte alle domande fatte proprio anche da giovani studenti delle scuole superiori. Quindi il contatto con i giovani, giustamente da lei avvertito, è stato dal club percepito e quindi a questa borsa si è affiancato questo momento di riflessione sulla legalità proprio per stimolare sempre di più i giovani, per fare ricordare, che è la cosa più importante, ricordare questi martiri. Noi a Palermo abbiamo ahimè un primato di soggetti trucidati in malo modo dalla mafia e non possiamo dimenticare questo sacrificio nella viva speranza. Forse stiamo raccogliendo i frutti adesso per alcuni aspetti, perché perlomeno il sacrificio di queste persone non è andato l'anno disperso. L'ultimo sceneggiato televisivo, per esempio questa è la mafia, il Cile solo d'estate, secondo me sta affrontando, anche se in maniera diversa, quelli che erano i temi veri della società siciliana di questo ultimo periodo, soprattutto di quel periodo particolare che hanno veramente determinato tanta miseria per la Sicilia. Non c'è stato il progresso che ci si aspettava, ma perché la mafia non vuole questo tipo di progresso, anzi vuole miseria per essere più forte. Forse adesso stiamo cominciando ad inquadrare bene il problema, ma non è risolto, lo sappiamo bene. Ahimè, ancora c'è strada da fare. Tutto questo però impone ad un'associazione come Lions Club di modificare quella che era la propria impostazione, quindi di vedere le cose in maniera diversa e anche per dare l'idea precisa che Lions Club non è un club di divertimento, ma è soprattutto un'associazione culturale che si interessa di determinati problemi che riguardano la società e promuove iniziative per la società civile, la società palermitana. In questo caso, Presidente, non so se... No, lei ha centrato perfettamente la situazione. In effetti i Lions, da qualche anno, hanno già iniziato una strada di cambiamento relativamente all'attività da svolgere. Prima i club Lions erano considerati club d'elite, dove i soci si svolgevano delle attività, ma si trattava di attività prettamente scientifiche, prettamente di rappresentanza e poco, anche se già se ne facevano... Siamo un pochettino distanti dalla realtà. Poche attività di servizio. Un pochettino distanti dalla realtà. Esatto, dalla realtà. Adesso invece i club, il nostro in particolare, il nostro è il più antico club Lions della Sicilia, il primo, il più antico, e il nostro club in particolare si è aperto moltissimo alle esigenze del territorio, alle esigenze delle persone che vivono nel nostro territorio. E quindi si impegna, si è impegnato, si impegna moltissimo nell'accedere alle situazioni più bisognose, più interessanti dal punto di vista dell'intervento laionistico e soprattutto di accedere a quelle che sono le esigenze dei giovani, perché come ha detto lei e come ha detto anche il professore che ha detto che i giovani sono il nostro domani, costituiscono il nostro domani. Abbiamo fatto, il nostro club ha fatto quest'anno, una serie di service importantissimi, soprattutto privilegiando i giovani, perché sono diretti tutti esclusivamente o quasi esclusivamente ai giovani. Abbiamo fatto diversi service nelle scuole, abbiamo fatto diversi service anche con organizzazioni di beneficenza, collegandoci per esempio alla Caritas, con cui abbiamo fatto beneficenza, abbiamo fatto beneficenza, raccolta di cibo che abbiamo distribuito ai poveri, sempre in ogni caso. Un cambiamento enorme, un cambiamento aperto al sociale. E questo non può fare che essere un fatto positivo e rendervi onore per questa attività, anche perché appunto modifica quella che è l'idea del Lions Club, non solo Palermo, ma in generale, perché c'era questa idea che fosse solo un gruppo veritario, che si interessava a determinati problemi, magari qualche convegno, mantenendosi molto distaccato da quella che era la realtà di tutti i giorni. Tra l'altro, se mi consente solo una battuta, è una spinta che proviene dalla nostra Carta Costituzionale della riforma che è stata effettuata dall'articolo 111 della Carta sulla sussidiarietà, cioè sul fatto che organismi associativi, così come è il nostro, un organismo avvocato al servizio, debba supplire a quelle che sono le carenze delle istituzioni che ahimè si sono potute constatare con grande frequenza. Mi spinge a fargli una domanda sulle istituzioni, una volta che lo scende il diritto privato, quindi, dicono, queste istituzioni perché c'è chi vuole modificare la Costituzione, c'è chi vuole modificare lo statuto della regione siciliana. Io generalmente sono stato sempre contrario, per carità, però non ci rendiamo conto forse del bene che abbiamo tra le mani e che non riusciamo ad utilizzare al meglio, diciamo, della portata che rappresenta. Indubbiamente sì, molte volte si critica molto più frequentemente rispetto a poterne trarne i benefici che sia nella Carta Costituzionale sia nello statuto della regione siciliana... Abbiamo sfruttato al massimo che cosa vogliamo modificare, forse diventa una novità, modifichiamo lo statuto della regione siciliana. Mi meraviglia il fatto che queste affermazioni le fanno alcuni docenti universitari che magari per adesso sono impegnati direttamente in politica, i quali sanno benissimo il valore dello statuto siciliano e che non è stato sfruttato al massimo come doveva essere sfruttato anche nei confronti dello Stato, questa è la verità. Indubbiamente. E quindi c'è chi vince e c'è chi perde, ma comunque... L'indolenza. E allora, tu avevi fatto una ricerca, avevo un testamento... Sì, ho trovato un testamento etico. Non dico di leggerlo tutto, però vorrei che ne reggessi una parte perlomeno, che è un testamento del professore Paolo Giacone. Non abbiamo la data, ma indubbiamente, prima della morte. La professione medica impone obblighi di legge e la cui conoscenza teorica dovrebbe essere bagaglio di ognuno di noi, ma solo l'esperienza e il buonsenso, la riservatezza che occorre la valutazione dell'interesse pubblico e dell'interesse del singolo nelle varie contingenze della professione quotidiana. La serietà e l'umiltà con cui ogni medico si avvicina al paziente e alla professione stessa possa consentire che ogni medico ogni giorno ricavi insegnamente sempre nuovo, pronti eventualmente rispondere ai propri errori che saranno inevitabili e che non necessariamente saranno condannabili o condannati. Questo, a mio avviso, riappacifica, dovrebbe riappacificare e ritornare al senso dell'essere medico. Il medico è un essere umano che ha studiato tutta la vita per mettere le proprie conoscenze a disposizione degli altri, ma quello che realmente fa grande un medico è l'umanità nell'avvicinarsi al paziente e l'esperienza che deriva dalla sua vita professionale. È giusto recuperare un dialogo con il paziente da un lato e dall'altro, perché l'aggressività da parte dei pazienti che magari ritengono di dovere avere necessariamente delle cure di un certo tipo, magari informandosi su Facebook, su internet, lasciando da parte tutta quello che è lo studio e la professionalità e l'esperienza di un medico. si dovrebbe ritrovare la giusta empatia tra medico e paziente. Il medico deve mantenere l'autorevolezza che gli è data dalla sua professione e si dovrebbe ritornare al dialogo. Senti, invece quello che tu hai letto, questo testamento, il professor Giacomo, mi porta ad una riflessione. Ecco, molte volte noi veniamo in contatto con delle persone di cui non conosciamo in effetti la grandezza interiore. Cioè poi le apprezziamo quando muoiono. Io dico io, ma non è molto meglio avere più rispetto del prossimo in vita invece di poi leggere, come nel nostro caso, dei testamenti che ce lo fanno apprezzare, diversamente dal come l'avevamo magari disprezzato in vita. Secondo me questo sarà stato un discorso che lui avrà fatto forse alla fine del corso di medicina legale che lui teneva, perché io ricordo che è capitato anche a me di avere, di sentire, non dico diciamo discorsi di questo genere, ma quasi simili di alcuni docenti che per tutto l'anno, qua non voglio fare una critica al professor Giacomo, che per tutto l'anno appaiono in maniera diversa nei confronti degli alunni, degli allievi. Poi nel momento in cui avvertono il distacco, la fine del corso, allora esce fuori quell'aspetto umano che loro hanno. Non è che il docente non ha tutto questo, diciamo, umanità, ma che molte volte dovuta al momento, alla lezione del giorno, non manifestano. E questo secondo me è un peccato, perché veramente si potrebbe staurare tra docente e allievo un rapporto diverso che porterebbe, diciamo, a risultati ancora migliori di quelli che molte volte si ottengono. Professor, mi chiamati in causa lei. Sì, sì, mi sento sul patibolo, ma ritengo, non lo metto in dubbio, fra l'altro ritengo, ma forse è una presunzione che riesco a instaurare per tutto l'anno, anche se penso che sia opportuna una buona preparazione. Quindi un buonismo esagerato non fa mai il bene dello studente. Ma anche in quel rigore esserci una flatus umano, un rapporto di empatia, quello senza dubbio lo vado sempre ricercando e credo, per quello che poi sono le testimonianze ex post, quindi non interessate, dopo che è stato fatto l'esame, mi si sottolinea come è stato un rapporto piacevole che ricordano per la vita, vedo ormai persone mature che... indubbiamente. Perché lui aveva eseguito delle autopsie per Santi Mattarella, Michele Reina, non ricordo altri. E quindi lui era a contatto con una realtà terribile. Cioè lui viveva, diciamo, ogni giorno, perché in quel periodo poi le mozze si sono... si sommavano, esatto. Quindi lui era a contatto con questa realtà. Pur tuttavia, pur essendo al contrario di noi tutti, testimone diretto della violenza, della mafia, lui non ha avuto esitazioni a mantenersi fermo, a mantenere fermo il proposito di non modificare quella che era stata la sua scelta, la sua relazione su quell'impronta. Cioè questo lo fa ancora più grande, perché magari noi avremmo potuto... Invece lui, che vedeva ogni giorno quelli che erano i risultati di questa carneficina, cioè è rimasto fermo nella sua scelta, fedele alla sua professione, al giuramento che aveva fatto. Sottolinea il rigore morale che aveva, che è veramente la dote. Diciamo, non basta, secondo me stiamo facendo bene a parlare di questo personaggio, e ripeto, non basta un semplice, una semplice borso di studio, perché è opportuno parlarla, perché l'insegnamento è continuo, e se noi continuassimo ancora a parlare di lui, probabilmente tireremmo fuori altri aspetti che magari, insomma, l'uomo della strada non potrà accogliere mai Certo. Allora, Presidente, ci arriviamo alla conclusione. Sì, ci arriviamo alla conclusione. Io vorrei ribadire ancora una volta la bellezza di questo premio Giacone che abbiamo istituito. La consegna del materiale della borsa è un atto successivo ad una prima fase, che è quella della celebrazione della memoria. Ecco, attraverso la celebrazione dalla memoria di Paolo Giacone, noi tramandiamo agli altri e ci auguriamo di tramandare in eterno la memoria di questo uomo, che era un uomo con la U maiuscola, che era un ottimo professionista, che era un medico legale di chiarissima fama, che riceveva proprio per le sue qualità umane e scientifiche incarichi dall'autorità. Ma sapete se i figli hanno scelto di fare medici? La grande, Mili. Sì, ecco. Allora, per la domanda la faccio a te. Dicevo, questo uomo riceveva pure, il professor Giacone riceveva per tutte le sue qualità di cui ho parlato, riceveva incarichi in continuazione dall'autorità giudiziaria e guarda caso, proprio nell'eseguire, nel dare esecuzione all'ultimo incarico ricevuto, ci ha rimesso la vita, ma ci ha rimesso la vita perché? Perché era un uomo onesto, perché era un uomo vero, perché era un uomo osservante dell'etica professionale, perché era un uomo che non si è mai piegato all'imposizione del sistema criminale. Vedi quanto siamo, siamo un uomo normale, che faceva il suo dovere e che lo facciamo diventare un eroe, cioè l'esordità della vita. Esatto, esatto. Io avrebbe preferito continuare ad essere un uomo normale, ma non ci è stato consentito. L'esordità sicuramente di scegliere, no? Continuare a vivere all'interno della sua famiglia, nel suo posto, occupando il posto della società che aveva, invece ha messo davanti il suo ruolo e la collettività rispetto a se stesso e l'individuo. E ha messo la parte quella della famiglia, perché avrà pensato. Esattamente, li lascio soli, no? E dico, tu hai avuto modo di parlare con la figlia. No, no, l'ho conosciuta tanti anni fa, non ho avuto la possibilità ancora di rivederla. Non sai come mai scegliere di fare il medico? Dico, non lo sai perché hai scelto di fare il medico, proprio perché lo faceva il padre. Lei, chiaramente, ha vissuto l'ideale del padre dentro la famiglia, sin da piccola. Era studentessa in medicina quando è stato ucciso il padre. Dovano andare la mattina insieme al policlinico e per un caso lei non era lì. Risulta particolarmente significativo in questo incontro con gli studenti che uno dei protagonisti, alcuni anni fa, della intervista a un esponente proprio su domande sulla legalità, è stato il nipote di Paolo Giacconi, Paolo Giacconi Junior, che ha partecipato alla commemorazione del nonno in maniera attiva e in maniera significativa. È stato commovente vedere questo. Perfetto, noi abbiamo concluso questo nostro incontro, abbiamo cercato di onorare, come abbiamo potuto, la memoria del professore Paolo Giacconi. Forse siamo risultati noiosi per alcuni, però noi sentivamo veramente di parlare appunto di questa figura così importante per tutti noi che, come abbiamo detto più volte, deve essere ad esempio per tutti i giovani, per tutti coloro che intraprendono una professione così delicata come quella medica, ma non solo, chiaramente. Quindi grazie a voi per avermi dato questa opportunità, grazie ai telespettatori, buonasera a tutti. Grazie a tutti.